Torna dopo due anni, la festa del tartufo bianco a Poggiunbricchio, Tuber Magnatum, è organizzata dalla Proloco di Poggiunbricchio. Esatto, in collaborazione con il Comune, il BIM, la Regione Abruzzo, ripartiamo con questo evento dopo due anni di pandemia che ci ha tenuto fermi e ci ha fatto diventare diffidenti. Con questa manifestazione, la settima, speriamo di ricominciare e riportare un po' di allegria e di attenzione al territorio, perché si sta spopolando sempre di più. Ricordiamo, è importante anche che vadano avanti questi eventi, il weekend, quindi venerdì, sabato e domenica. Partiamo con venerdì in serata, poi sabato e domenica. L'evento sarà riempito con musica, animazione per i bambini e tanta allegria. E speriamo che la gente rimane felice di questo evento. Ovviamente ci sarà anche una tenda o struttura riscaldata. C'è una tenda o struttura dove è riscaldata, dove la gente può stare al coperto. Nel caso ci siano degli eventi di pioggia o di maltempo, la struttura è coperta e riscaldata. Si dovrà prenotare? Si può sia prenotare che no, perché non sappiamo al momento l'afflusso di gente, ma credo che riusciremo a gestirli nel migliore dei modi.